ragazzi buongiorno e bentornati sul canale del coach come sempre se non siete iscritti iscrivetevi oggi andiamo a vedere un bellissimo esercizio per i glutei che potete fare tranquillamente in casa ossia lo squat jump box uno di quegli esercizi che lavora bene con tutto il treno inferiore e ci dà la possibilità di allenare bene i glutei le gambe in qualsiasi situazione anche in casa non disponiamo di attrezzi pesanti vi assicuro che lo squat jump è uno di quegli esercizi che fa la differenza allora per eseguirlo si può prendere una sedia pur se avete una panchetta va benissimo e l'obiettivo sarà quello di controllare la discesa fermarsi un istante nel momento in cui siamo vicino alla sedia quasi la tocchiamo ma dovete sempre prestare attenzione che se qualcuno mi toglie la sedia voi dovete rimanere fissi in quella posizione perché siete in una posizione statica ma attiva quindi e poi da qua si esplode verso l'alto quindi a questa posizione l'esercizio viene svolto in questa maniera mi abbasso indietro blocco la posizione e poi esplodo verso l'alto e poi ricontinuo in questo modo se notate che l'esercizio è semplice potete prendere una bottiglia un manubrio per appesantire lo squat jump quindi l'idea vado indietro e poi e vado ad eseguire lo squat jump in questo modo quante ripetizioni qua variamo tantissime in base al workout che state seguendo buona cosa fare dalle 8 di 8 12 ripetizioni 3 4 serie recupero un minuto veramente un grande esercizio per andare ad allenare in maniera funzionale il treno inferiore ma soprattutto i vostri glutei alla prossima ciao ma che cosa stai aspettando sei ancora qua dai vieni sul mio sito umberto miletto punto conti metto il link qua sotto al video perché ti ho preparato tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di migliorare dai corri subito tantissimi articoli su allenamento alimentazione programmi gratuiti che ti permetteranno di